A ciascuno di noi il cibo racconta una storia che inizia dall'agricoltura e le nostre azioni si riflettono su ogni fase del suo viaggio. Abbiamo un solo pianeta e siamo parte di un sistema. Dobbiamo collaborare per creare un futuro migliore. È necessario ritrovare il contatto con la natura e lavorare all'unisono. Riscriviamo la storia del cibo per un mondo migliore e più sostenibile. Le nostre azioni sono il nostro futuro. Grazie a tutti.